Abbiamo combinato otto daspo, guilli o dacur, che dir si voglia, a soggetti che hanno partecipato a delle risse, in due distinte risse. E in più abbiamo chiuso, a esenza dell'articolo 100, un locale in questo centro storico sostanzialmente. Questa mattina la notifica all'esercente di Pescara Vecchia, una donna di nazionalità lituana, beccata a somministrare il 16 aprile scorso bevande alcoliche a due ragazzi di 15 anni. Un episodio che ha alzato l'attenzione delle forze dell'ordine risale al 4 giugno scorso. Due minorenni di 13 e 17 anni sono usciti dal locale chiuso e uno dei due pare avesse assunto droga. Altro evento, il 22 luglio scorso, la Polizia Municipale di Pescara ha sorpreso di nuovo minori che consumavano superalcolici. Oltre alla sospensione della licenza per 15 giorni alla denuncia per somministrazione di bevande alcoliche a minori, si stanno valutando altri provvedimenti insieme alle autorità competenti. Gli otto daspo riguardano otto giovani di età compresa tra 20 e 25 anni. Due gli episodi di rissa violenta. L'ultimo risale al 2 aprile scorso e è avvenuto a Pescara Centro e riguarda tre ragazzi italiani. Il provvedimento impedirà loro di frequentare per un anno tutti i locali della zona in cui si è verificato il fatto. Un altro episodio di violenza risale all'11 marzo. Questa volta i protagonisti sono due ragazzi senegalesi e tre di nazionalità dominicana, residenti a Chieti, che hanno scatenato la rissa a causa del classico futile motivo. La ragazza contesa dai due gruppi ha cercato di intervenire per placare gli anime ed ha riportato ferite d'arma da taglio guaribili in 15 giorni. Il questore ha provveduto ad altri 5 d'aspo, tre dei quali avranno durata di due anni in quanto relativi a recidive. Alcuni soggetti che quando escono e vanno nei locali e soprattutto quando c'è un smoderato uso di sostanze alcoliche, a volte anche stupefacenti, poi vengono a turbare l'ordine della sicurezza pubblica. Vogliamo che la movida, il divertimento venga esercitato in maniera consapevole, in maniera responsabile, in maniera legale, perché tutti devono poter godere delle nostre piazze, della nostra coraggio.